Umberto Savoldelli, 67enne di Gandino, è scivolato per 150 metri mentre percorreva un sentiero sul farno perdendo la vita sul colpo. È accaduto attorno alle 16 di questo mercoledì 17 marzo quando Savoldelli, in compagnia di un'amica, stava percorrendo il sentiero delle cimette attorno al rifugio Parafulmine. L'uomo, appassionato di montagne e in particolare del territorio attorno al suo paese, conosceva bene la zona e frequentava spesso il rifugio. Secondo la testimonianza dall'amica che era con lui, il 67enne ha messo un piede in fallo, ha perso l'equilibrio ed è scivolato verso valle in un punto piuttosto scosceso del sentiero finendo in fondo al pendio. L'allarme è stato lanciato dalla donna che era con lui e che lo ha chiamato ripetutamente senza ricevere risposta, quindi si è calata nel pendio non senza grandi difficoltà e lo ha raggiunto in fondo al dirupo, da dove ha lanciato l'allarme al 112 e ha indirizzato i soccorritori verso il punto. Sul posto è giunto quindi l'elicottero del 118 di Bergamo, i cui sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 67enne. I carabinieri, verificata la dinamica dell'accaduto presenti sul posto, hanno ricevuto dal PM di turno l'autorizzazione a trasferire la salma, che è stata portata nella camera mortuaria del cimitero di Gandino. All'operazione di recupero non è presente gli uomini dalla sesta delegazione aerobica del soccorso alpino, il cui intervento però non è stato necessario in quanto hanno operato i tecnici dell'elicottero, unitamente al tecnico di soccorso alpino che si trova sempre a bordo. Pensionato da alcuni anni, Umberto Savoldelli aveva lavorato al tappetificio Radici. In passato era stato anche volontario della Croce Rossa.